Io sono Cappello. Si presentava così il signore della gestione dei rifiuti nel Catanese, Giuseppe Guglielmino, 43enne imprenditore, così vicino al clan egemone di mafia catanese, Cappello Buonaccorsi, da definirsi come uno di loro. Maxi sequestro, quello eseguito stamani dalla polizia etnea a frutto di un lavoro di indagine condotto in sinergia insieme alla mobile di Catania. Sei le aziende specializzate nel settore rifiuti alle quali sono stati apposti i sigilli, oltre al sequestro di diversi fabbricati a Catania, Bronte e Fiume Freddo di Sicilia e ad 11 auto di lusso, tra cui Mercedes, Alfa Romeo e Audi S3 Turbo, per un totale ammontante a circa 12 milioni di euro. E' stato riscontrato come Guglielmino, arrestato nel gennaio scorso a margine dell'operazione Penelope, producesse fatturati con le sue aziende che puntualmente andavano ad aggiungere risorse economiche nelle casse del clan etneo, con il quale l'imprenditore detiene non solo stretti rapporti di collaborazione, ma anche di profonda appartenenza. Convivente della figlia di Horacio Pardo, storico boss dei Cappello, molto amico di Maria Campagna, donna del capo mafia Turi Cappello, Guglielmino era persona ben accetta addirittura ai summit mafiosi della famiglia. Ricopriva anche un ruolo ufficiale, Guglielmino, quello di responsabile degli appalti in Calabria e Campania e di interlocutore per il clan, con i boss dell'Andrangheta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.